Oggi stasera vi faccio vedere il mio armadio, le cose che ho nell'armadio. Allora, prima ci sono i leggings, che praticamente poi li metterò da un'altra parte. Adesso li metto qui nell'armadio. Ho buttato via un sacco di cose, perché abbiamo fatto il trasloco e così pulito là. I leggings magari prenderò qualcosa e la metterò vicino al letto. Tutti i leggings, guarda, questo è i leggings Napalizio. Questo qua è i leggings belli per fatti. Sono i leggings quelli di cotone, i leggings belli di ciniglia. E i leggings tutti qua. Di che cosa? Ciniglia. Questo è questo, che sembra un jeans. Un jeans, ma è un coso. E' un affare. E' un leggings. Poi un attimo. Andiamo a capire. Purtroppo ho poca roba. Guardate quante robe. Questo è una gonnellina per quando dimagrerò. Che dovrò dimagrire una goncina di film per metterlo su. Ma poi questo che ho avanti. Questo è il mio altro pantalone. Un altro leggings. Questi qua sono tutti leggings. Questo è carino. C'è tutti i sberlucicanti. È un po' sberlucicanti. È molto bello perché è per pacco e va bene per la montagna. Per il freddo. Ma questo freddo qua non arriva. È normale. Perché non mi piace. Dai che poi il 30 di ottobre cambiano l'ora. Poi arriva. Oh mamma mia, ora cambiata. E che stessa. Ma è per quello che viene lì sul freddo. Sì, sì. Allora, poi c'ho le magliettine. Questa qui dei cinesi. Non si usava. L'era un certo. Questa è Orietta Berti. Mi viene in mente Orietta Berti. Voto zero. Poi il Resesena. Che Resesena? Non ho un video. Qua ci sono delle magliettine. 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 Poi dopo farò tanto shopping. Questa è bellissima per Halloween. Per l'amore, lo ho di freddo. Guardate qua. Bella, 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 bella. Ok. Poi. Questa qui rosa. Che a me piace tanto il rosa. È rosa. Ok. Poi. Magliettina. 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 E top. Top, top, top. Poi. Maglietta della valda osta. Presa in valda osta. Perché se no. Altre magliette con le maniche corte perché non si sa mai. Magari le metto sotto ai maglioni, sotto alle cose. Poi. Un'altra maglietta. Una magliettina rossa. E un maglioncino. Maglioncino rosso. Pelpa. Questo è un maglione che metto sempre. Quando fa freddo. Il orso. L'orso bruno. Bellissimo. Poi ne ho un altro di questo. Un po' uguale quasi. Rosa. E poi ho un'altra pelpa. Grigia con il cuore. Che sono a lavare. Questo è il nano. Questo deve essere. Che ne sono le pizze. Ma che sono le pizze. Bambolo. Mammolo. Bambolo. Ma che bambolo? Chi è bambolo? Boh. Mammolo. Non so perché è ricosissimo. Questi sono i pantaloni che ho. Ne ho pochi perché. Ne ho pochi rossi. Rossi belli morbidi. Jeans. E poi un altro pantalone. Comunque farò tanto. Show. Piano piano. Poi ho. Un'altra pelpetta qui. Che era poi la rinatuta. Anche questa. Anche questa qui. E questa qua. Che è una maglietta. Che era vera. Ma me lo c'è vera. È vera. Poi. Cardigan. Cardigan. Maglioncino. Maglioncino. Viola. Altro maglioncino. Altro maglioncino viola. Non uguale a quello là. Maglioncino marrone. Maglioncino di questo colore. Blu. Questo qui è una cosa da mettere con sotto i leggings. Anche questo è di lana. Questo invece è un gilet. Che dalla fotocamera è azzurro. È azzurro. Sì è azzurro. Non è un vero che. Dalla fotocamera è azzurro. Verde verdoso. Solo azzurro però. Perché vedi che i cosi sono azzurri. Sono galtonici. Questo qui anche lui è un gilet. Bello pesante da mettere. Sopra. Delle altre cose. Una bella. La cosa del nano. La cosa. La maglietta del nano. Poi. Non è finita. Aiuto dove la metto. Poi. Non è finita. Ho i pigiami. Questo pigiama. Questa è una camicia da notte. E questa è una camicia da notte. Poi ho. Passa montagna. Cappellino. Ciarpettina. Ho solo due paglie di scarpe. Perché devo fare appunto shopping. E sono queste. Poi mi rifarò. E li farò vedere. Farò vedere. Tutto quanto. Va bene. Ok. Ciao. Vi saluto. Alla prossima. Ciao.